Ciao e benvenuto in questo nuovo video dedicato alla Fire TV Stick che vedi accesa qui alle mie spalle. Di cosa ti parlerò in questo video? Se hai acquistato da poco, oppure già da un po' di tempo, che utilizzi questo dispositivo smart, forse ti sarei chiesto anche tu qual è il miglior modo per riuscire a spegnerla. Allora, in questo video ti voglio mostrare tre metodi che ti serviranno appunto per spegnere la tua Fire TV Stick. Prima di andare a vedere questi tre metodi, naturalmente io ti invito, se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale, attivare la campanellina così da rimanere aggiornato sui prossimi contenuti e se avrai trovato questo video utile, lasciarmi un like. Allora, andiamo a vedere quali sono i tre metodi principali per spegnere la Fire TV Stick. Allora, naturalmente il primo metodo è quello di togliere la corrente fisicamente alla tua Fire TV Stick, che sia tramite una ciabatta con un pulsante, oppure fisicamente togliendo la spina dalla presa elettrica, questo è sicuramente il metodo principale per spegnere la tua Fire TV. Il secondo metodo invece prevede l'utilizzo del telecomando. Eccolo qua. Che cosa puoi fare? Non puoi, con il telecomando, tramite una funzione software, spegnere la Fire TV Stick, ma puoi metterla in modalità Standby. Come si fa? Si prende il nostro telecomando, si tiene premuto il tasto Home per più di due secondi, in questo modo, guarda. Dopodiché vedrai comparire un menu come questo, dove nella parte centrale è presente appunto il menu Standby. Eccolo qua. Ti basterà quindi cliccare sul pulsante centrale per attivare la modalità che mette, diciamo, in sospensione la tua Fire TV Stick. Come si fa per disabilitare questa funzione? Semplicemente basterà ripremere il tasto centrale, in questo modo, vedrai che la Fire TV Stick per magia riprenderà tutte le sue funzioni. Ti ho detto però che ci sono tre metodi, quindi resta l'ultimo da vedere. L'ultimo qual è? È quello di collegare la tua Fire TV Stick ad una presa smart come questa, oppure ad una ciavatta smart appunto che ti permetta di togliere l'alimentazione al tuo dispositivo Amazon tramite l'app dedicata appunto alla tua presa smart. Vuoi sapere quali sono quelle che io solitamente preferisco e che ho acquistato per la mia Fire TV Stick? Beh, trovi tutti i link in descrizione. Diciamo che per il momento è tutto, questo video è giunto al termine. Ti ricordo ancora una volta, se non l'hai fatto, di iscriverti al mio canale, di attivare la campanella e lasciare un like e di continuare a seguirmi per queste guide gratuite legate alla tecnologia. Ciao, alla prossima!